buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 24 ottobre 2022 vediamo subito qual è il santo del giorno poi passeremo alle previsioni del tempo e quindi alle notizie del giorno il santo è un santo non molto conosciuto devo dire la verità il suo nome è sant'antonio maria claret sembra francese in realtà era spagnolo nacque a salent un paesino nei pressi di barcellona nel 1807 fattosi sacerdote fondò la congregazione dei missionari figli dell'immacolato cuore di maria scrisse molti volumetti di devozione molti libri e di pratiche religiose addirittura fondò una tipografia e fu anche nominato arcivescovo di cuba tornato a madrid fu confessore della regina di spagna ecco sant'antonio maria claret passiamo ora le previsioni del tempo il tempo si mantiene ancora stabile su tutte le marche con una tendenza però alla nuvolosità i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino deboli da ovest e sud ovest al pomeriggio moderati e proverranno da est le temperature oscilleranno dai 16 ai 28 gradi addirittura dicono i giornali questa mattina mi sembra una previsione un po esagerata io non sono un meteorologo però insomma continua a fare caldo i mari scusate i mari sono ancora mossi ed ora apriamo i giornali cominciamo dalla prima pagina oggi del resto del carlino marche una prima pagina che sintetizza come ogni lunedì le notizie di tutte le province marchigiane e cominciamo ovviamente da quella di pesaro il turismo sorride una stagione più lunga grazie agli eventi e soprattutto al clima come ho detto fa il punto costantini che è presidente degli albergatori i viaggi si sono prolungati e molti hotel sono rimasti aperti grazie a questa clemente stagione che da una parte danneggia per la siccità dall'altra invece favorisce chi vuole ancora passare qualche giorno di vacanza ed ora parliamo anche di siccità perché ad acqua lagna la siccità spinge i prezzi del tartufo che sale alle stelle e poi a fano invece ieri si è svolta una assemblea della fondazione carifano sono stati eletti nuovi soci ed entrano anche due rettori universitari ad ancona si parla ancora dei danni subiti dalla fontana dei cavalli cui è stata è stato rotto un'ala di uno dei cavalli e un ragazzo chiama i carabinieri e si autodenuncia dice sono stato io e poi ancora nella pagina di ancona due uomini lo piccano con un bastone per rubargli lo smartphone e poi è stato denunciato un 61enne un'anziana compra un divano a 1200 euro ma è una truffa ad ascoli piceno invece l'imprenditore cardinali si fa avanti per gestire la cascina delle rose a san benedetto un uomo si sente male mentre favisi dai parenti al cimitero è stato trovato morto aveva 82 anni a ripatransone un viaggio nel canile più abbandoni colpa della crisi ci sono certe persone che non riescono arrivare alla fine del mese e quindi non si occupano più degli animali di affezione e poi un delitto operaio ucciso nessuna lite si stringe il cerchio sul coinquilino su cui si sospettano e appunto le indagini in cui si fermano le indagini per quanto riguarda questo omicidio invece a macerata l'iniziativa tradizione turismo due giorni dedicati al trekking urbano mentre a camerino una sfilata serale viene organizzata per promuovere i negozianti infine recanati furti a raffica ripulite tre abitazioni un bottino di mille euro per quanto riguarda un ride che è stato presumibilmente fatto dalla stessa banda apriamo il giornale ci fermiamo un attimo sulle pagine pesaresi e vediamo quello che accade per quanto riguarda il tartufo siamo nella stagione ideale per il tartufo e acqualagna sale alla ribalta con la siccità il tartufo vola fino a 4500 euro al chilo sono queste le quotazioni della borsa di acqualagna che ieri ha aperto la 57esima fiera del tartufo ebbene in questa occasione il sindaco ha espresso la sua solidarietà ai colleghi del territorio colpiti dalla alluvione ma riguardo il prezzo acqualagna ha creato su internet la borsa del tartufo con quotazioni collegate all'andamento del mercato ovvero si è costituito un osservatorio prezzi che stabilisce un valore medio di vendita che è riferito sia alla qualità che alla pezzatura del tartufo sapete che un tartufo più grosso costa molto molto di più di un tartufo piccolo di piccole dimensioni ebbene ci sono diverse quotazioni a seconda che la pezzatura vanno da 0 a 15 grammi da 15 a 50 oppure superiore ai 50 grammi in questo momento il prezzo si attesta dai 2500 ai 4500 euro al chilo insomma una cifra considerevole e poi si parla anche di olio oggi sui giornali sul resto del carlini in modo particolare ne parla il presidente del consorzio dell'olio dop di cartoceto tommaso maggioli olio raccolta ottima dice maggioli ma l'europa preoccupa preoccupa in modo particolare per la etichettatura questo nutriscore secondo appunto questo modo francese di etichettare i prodotti la coca cola avrebbe è un sistema che si basa un po su segnalazioni tipo semafori che insomma c'è il rosso il verde il giallo eccetera ebbene la coca cola ha ottenuto il semaforo verde mentre l'estratto delle olive ovvero l'olio il semaforo rosso che insomma non sarebbe certo l'ideale per i consumatori è un'assurdità ha detto maggioli così non si tutela il vero prodotto genuino e soprattutto si danneggia il made in italy e quindi c'è l'appello al nuovo governo che ha cambiato denominazione al ministero dell'agricoltura perché oltre a cambiare la denominazione cerchi insomma di tutelare i prodotti italiani e poi si parla di turismo si parla di turismo perché anche la bassa stagione grazie al clima mite si è alzata il presidente degli albergatori costantini commenta il trend negli ultimi mesi col clima mite viaggi prolungati e più hotel aperti secondo un dato della regione marche ma non si sa quanto attendibile secondo alcuni albergatori da gennaio ad agosto il sistema turistico provinciale ha fatto registrare un meno 2,21 per cento negli arrivi rispetto al 2019 hanno preso per il confronto mentre per quanto riguarda le presenze il dato provinciale registra un più 1,13 per cento sempre rispetto al 2019 in testa c'è ancora nella classifica regionale ma in questo caso molto incide il turismo di passaggio per il porto insomma e gli sbarchi che si effettuano in darsena a molti più arrivi di pesaro ancona il capoluogo d'orico ma anche molte meno presenze infatti c'è il passaggio sbarcano e poi se ne vanno in testa per ordini di arrivi terzo e quarto posto c'è gabice quindi pesaro poi al settimo posto c'è fano questo è un po quello che dice la regione intanto nei giorni scorsi si è svolto a fano si sono svolti a fano gli stati generali del turismo dove da gennaio al mese di agosto si è visto un'impennata delle degli arrivi e delle presenze presenze addirittura che hanno pressa poco eguagliato il periodo di pre covid e quindi insomma un grande balzo in avanti rispetto alla pandemia vediamo anche altre notizie purtroppo è deceduta il vidia ferraguti la rosina delle marche una delle cantanti liriche più celebrate della nostra del nostro la nostra provincia del nostro territorio era orgogliosa di quel titolo la rosina delle marche perché insomma interpretando questo ruolo aveva acceso l'entusiasmo dei melomani e lo aveva conquistato grazie all'interpretazione del barbiere rossiniano e aveva 87 anni era nativa di petritoli ma arrivò a pesaro agli inizi dell'anno 50 per frequentare il conservatorio rossini a 18 a 19 anni aveva debutato nel ruolo di gilda nel rigoletto al teatro pergolesi di jesi a 21 anni si era diplomata in canto con il massimo di voti poi ha iniziato a cantare nei più importanti teatri italiani riscotendo ovunque un notevole successo i funerali di elvidia serracuti si terranno oggi alle ore 10 e 30 nella chiesa del porto e poi vediamo un articolo che riguarda l'entrata di nuovi soci nell'assemblea della fondazione cassa di risparmio di fano fondazione cari fano nuovi soci sono al top è un articolo di maurizio gennari il quale il quale evidenzia come l'assemblea si arricchisce di nuove presenze soprattutto quelle dei rettori dell'università di urbino e del politecnico di ancona giorgio calcagnini dell'università di urbino e gianluca gregori che guida il politecnico di ancona poi abbiamo altri interventi altri altri interventi insomma rilevanti e sono quelli di mauro papalini che ex presidente degli industriali e titolare della impresa di un'impresa di polizie che opera in città quindi bellucci della società d'ago elettronica per rimanere nell'ambito degli imprenditori e poi un'esperta d'arte una grande esperta d'arte ovvero anna maria ambrosini titolare di cattedra ad urbino e recentemente consulente anche a pesaro per il restauro di palazzo perticari altri ingressi a questo proposito sono quelli di daniele di otalevi storico locale anche lui da anni molto vicino alla fondazione e per quanto riguarda il mondo della scuola è stata eletta eleonora ugello responsabile del polo 3 per le professioni giuseppe de martino il notaio entrano anche due imprenditori molto conosciuti nell'ambito del mondo che riguarda l'enogastronomia ovvero carla fiorini dell'omonima cantina che produce vini e poi giro lomeo giro lomoni figlio di gino gero lomoni e il fondatore di alceo scusate di alce nero la nota la nota azienda agraria di isola del piano insomma uno dei fondatori delle bio della coltivazione e bio nell'ambito dell'agricoltura questa l'infornata dei personaggi che è stata decisa ieri e approvata dalla fondazione e poi si parla di un fenomeno di un fenomeno celeste ovvero l'eclissi di sole che ci sarà domani sarà un eclissi parziale ma già gli astrofoli sono pronti con i loro telescopi per vedere questo fenomeno vediamo qui a fondo pagina eclissi solare spettacolo per tutti domani telescopi puntati alla palla di pomodoro e il sole coperto dalla luna in tutto in parte la visione dalle 11 e 21 alle 13 e 20 sarà in totale sicurezza ebbene saranno i telescopi gli strumenti del gruppo astrofoli pesaresi il gap opportunamente schermati perché non si può guardare il sole senza schermo saranno infatti a disposizione gratuitamente della città per una osservazione pubblica che si terrà la palla di pomodoro l'evento si potrà seguire nella sua interezza ha spiegato l'ingegnere giovanni panzieri che fa parte appunto del gruppo degli astrofoli dalle 11 sarà a disposizione il gruppo fino alle 13 e 20 il fenomeno il fenomeno sarà esattamente lo ripeto dalle 11 e 21 raggiungerà il massimo alle 12 e 20 quando il sole sarà coperto per quasi il 20% non nella sua totalità non sarà un eclissi totale ma insomma sarà interessante vedere come la luminosità perderà un po' del suo fulgore domani ci sarà una lieve un lieve offuscamento del cielo questo per quanto riguarda le notizie della provincia di Pesaro diamo un'occhiata anche alle molte notizie di cronaca che ci sono nelle altre province seduto su una panchina picchiato per il cellulare è stato aggredito a Dancona bastonate da due sconosciuti mentre era in corso Carlo Alberto l'arrivo della polizia ha messo in fuga i due romeni poi inseguiti e arrestati insomma due malviventi e poi qui l'episodio del danneggiamento della fontana dei cavalli in piazza Roma ebbene qui abbiamo un cittadino non è lui l'autore del vandalismo che mostra come uno dei cavalli ha perso la sua ala la vediamo qui in questo punto dove rimane il moncone l'attaccatura dell'ala al dorso del cavallo vandalismi danni ingenti all'alba in piazza Roma un giovane chiama i carabinieri e confessa subito e poi la fontana è inaccessibile ora ci vorrà del tempo per metterlo in sicurezza e operare il restauro un giovane sarebbe stato visto salire a cavalcioni del cavallo forse per arrampicarsi più su e con i piedi poi ha rotto l'ala che probabilmente si era indebolita con il passare del tempo invece vediamo sempre in Ancona un'anziana truffata per un divano online il malvivente è riuscito a farsi caricare con l'inganno 1200 euro sulla propria post pay preso e denunciato anche qui è stato scoperto invece travolto è ucciso dal trattore un malore dietro l'incidente di Cerreto Desi il pensionato, un 79enne era la guida del mezzo resta grave la moglie questo per quanto riguarda la pagina di Ancona per quanto riguarda invece Macerata abbiamo tradizione e turismo culturale un viaggio alla scoperta della città sono queste due giornate dedicate al trekking urbano un itinerario tra le pinturette opere dedicate a San Giuliano la scoperta di una città fatta anche dagli stessi abitanti è sempre una cosa importante che arricchisce il bagaglio culturale poi per quanto riguarda Macerata vi voglio segnalare anche questo articolo che riguarda un blitz dei ladri sono state prese di mira tre abitazioni furti in serie a Re Canati i malviventi sono entrati forzando le finestre il bottino si aggira su 1000 euro come abbiamo visto nel richiamo di prima pagina intanto indagano i carabinieri ma si pensa che questi ladri abbiano vita breve per quanto riguarda la loro attività in quanto telecamere, testimoni possono aver visto qualcosa operaio ucciso ad Ascoli e fermo nessuna collutazione bivio cascinare le analisi della scientifica in casa dei lavoratori indiani non mostrano segni di lotta si stringe il cerchio intorno al coinquilino probabilmente indagato in modo particolare perché su lui i sospetti acquistano una certa rilevanza e poi l'articolo che riguarda l'aiuto ai cani aiutiamo anche i cani da bollino rosso al rifugio di Ripa Transone arrivano pure animali da situazioni familiari difficili intanto la crisi fa aumentare chi rinuncia al suo quattro zampe ed è veramente un peccato ora chiudiamo il resto del Carlino invece apriamo il Corriere Adriatico e vediamo come l'articolo di apertura viene dedicato al concertone che si è svolto alla Rocca Malatestiana per accogliere fondi in favore degli alluvionati una grande festa colorata alla Rocca in titola il giornale è tutto esaurito per il concertone l'evento con il cuore nel fango questo è il titolo che è stato dato all'iniziativa attiva una folla di giovani e famiglie con bambini oltre alle attese un successo, un vero, un vero successo tanta gente e soprattutto tanti giovani questo dà un esempio del clima di solidarietà che si è costituito attorno alle famiglie che hanno perso molti dei loro beni qualcuno ha anche un proprio familiare la Rocca non poteva contenere più di 800 persone ma veramente è stata occupata in ogni ordine dei posti la fotografia qui testimonia come tutti si sono accalcati nei pressi del palco per applaudire tutti i gruppi che si sono succeduti per un lungo tempo per dare la propria testimonianza appunto a questa opera di solidarietà e poi vediamo invece la giornata finale del Fano International Film Festival che si è svolta sabato al cinema Masetti di Fano autori marchigiani ancora in evidenza ecco i riconoscimenti del Fano International Film Festival sono stati non pochi gli autori marchigiani che si sono posti in evidenza Matteo Damiani autore del miglior film marchigiano è stato premiato qui lo vediamo a ricevere il premio non solo del Fano Film Festival ma anche dell'associazione Maruzza e poi qua ci vediamo Emanuela Mazzupappa autrice del miglior film italiano sono diversi poi tutti i personaggi che sono stati premiati a partire anche dagli scolareschi in una scuola di Bolognese che è stata premiata per il corto che è stato realizzato a livello didattico anche Fano aderisce alla rotta dei Fenici Seria ha partecipato in Croazia all'Assemblea Generale Internazionale un rapporto internazionale che pone in contatto la nostra città con altre città della sfera adriatica per interessanti relazioni dal punto di vista culturale soprattutto Per quanto riguarda invece terre rovaresche vediamo che il sindaco si scusa per i disagi che ci saranno negli scuolabus vigileremo sull'attesa dei bambini Sebastianelli assicura la sorveglianza nel punto di raccolta di piagge no al secondo mezzo ebbene disservizi possono verificarsi alla luce della situazione che è determinata dai lavori di ristrutturazione della sede scolastica delle medie di San Giorgio quindi si invitano tutti i cittadini ad aspettare tempi migliori che matureranno il prossimo anno e per questo ci saranno anche dei disagi per quanto riguarda gli scuolabus e quindi il sindaco pone le mani avanti dicendo ragazzi non posso fare diversamente perché insomma la situazione impone questo invece per quanto riguarda Senigallia vediamo che sono alla ribalta due ristoratori Uliassi e Cedroni sempre al massimo chef celebrati anche dalla cinquantesima Top Italy piazzati al secondo e all'undicesimo posto continuano a portare il gusto delle marche al successo ebbene l'enogastronomia si evidenzia si qualifica sempre più come forza attrattiva degli arrivi e delle presenze turistiche nel nostro territorio a Fabriano invece dal patrimonio culturale al volgo storico due bandi da 7 milioni una missione rilancio il sindaco Gergo a caccia di finanziamenti vogliamo dare il segnale forte che Fabriano può ripartire ebbene con i fondi anche del PNRR si possono realizzare tante cose e Fabriano certo non vuole restare l'ultima della fila diamo un'occhiata anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico ecco l'articolo che riguarda il caro vita pane no a ulteriori rincari ma il rischio è meno produzione purtroppo se tiri la coperta da una parte ci si scopre dall'altra alcuni forni hanno già ritoccato il listino e non vogliono altri aumenti nuovo incontro tra Confcommercio e Confesercenti per adottare linee comuni ebbene quando si aumenta il prezzo del pane uno degli elementi base addirittura in passato sono sorte delle vere e proprie proteste delle rivolte oggi non siamo a questo punto ovviamente però quando si tocca il prezzo del pane magari si possono toccare altri prezzi magari quelli di non dico superflui ma cose di cui si può fare tranquillamente a meno ma del pane nella nostra cultura alimentare non si può fare a meno e il ritocco del prezzo del pane è un provvedimento di particolare rilevanza ci sono qui delle testimonianze sulla scia delle bollette sta aumentando tutto materie prime comprese dice Marcello Angelini il prezzo da pagare è il calo dei quantitativi salvando però i dolci dice Mariella Mosca sto cercando anche di tutelare il personale tutte persone di fiducia aggiunge Giorgio Balestrieri mentre Marco Arzeni che è il direttore della Confcommercio dice ritengo che ridurre gli orari delle attività alla fine serva poco veramente e poi c'è un dilemma nella seconda pagina che tratta sempre questo problema quel dilemma tra chi chiude o non sforna più pizze la sera gelaterie, pasticcerie locali in cerca di una soluzione per fare quadrare i conti un'intera pagina dedicata a Elvidia Ferracuti nel momento della sua scomparsa addio al soprano Ferracuti per tutti la rosina delle marche ha legato la sua fama al personaggio del barbiere di Siviglia aveva 87 anni oggi i funerali si terranno nella chiesa del porto come abbiamo detto invece mentre altri comuni si trovano in difficoltà il comune di cui è sindaco Palmiro Ucchielli trova delle risorse finanziarie non trascurabili in pochi giorni ben 3 milioni e mezzo giungono dal governo Draghi nel momento del suo trapasso con il governo Meloni mai così tanti per Pian del Bruscolo Pala di Onigi Asili Nido e Mura di Colbordolo una pioggia di fondi sul territorio di Ucchielli ebbè insomma una bel passaggio di consegne tra i due presidenti del Consiglio dei Ministri Palazzo Ratti un restyling deluxe la Maison come una galleria d'arte non solo Palazzo Perticari ma anche Palazzo Ratti ora si mostra nella sua bellezza ai cittadini di Pesaro ieri l'inaugurazione dei rinnovati locali tra le sorprese il punto di alta pasticceria di Eginio Massari ebbene la città di Pesaro a questo riguardo non finisce mai di stupire l'incipit dell'articolo firmato da Elisabetta Marsigli oggi su Corriere Adriatico e vediamo anche la pagina di Urbino si parla di Tartufo la ruscella d'oro va a Pergola l'eccellenza è anche quella della solidarietà Pergola città che è stata colpita notevolmente dall'alluvione del 15 settembre la fiera del Tartufo di Acqualagna non dimentica l'alluvione Balbelli qui è la storia italiana e siamo in conclusione purtroppo lo sport è un po' deludente nella giornata di oggi sia la visse che il Fano Calcio hanno pareggiato ma insomma l'importante è non perdere punti e quindi salire sempre di più la scala della classifica è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 su Occhio alla notizia di Fano TV il Tg di Fano TV per stasera alle ore 20.30 questo è tutto buona giornata a risentirci grazie a te